Il tema del museo, dello sport che è stato tirato in ballo anche oggi giustamente da signor Graziali è una cosa a cui si pensa in realtà già da tanto tempo e a cui noi, io il sindaco e la giunta siamo molto sensibili e stiamo valutando già in prospettiva la possibilità di poter realizzare qualcosa del genere però sapete tutti dall'altra parte che la città è una fase molto difficile e critica da cui dobbiamo risollevarci e ci si risolleva come diceva giustamente il signor Graziali mettendo insieme le forze purtroppo il comune da solo non ha più le forze per poter realizzare delle opere di questo tipo e quindi occorre sviluppare delle sinergie intorno ai progetti forti quindi sviluppare dell'entusiasmo su cui tutti insieme, ognuno ci mette il suo pezzettino si possono realizzare delle cose importanti noi abbiamo già sulla locazione del museo dello sport alcune idee possibili di luoghi che potrebbero ospitarlo e io sono disponibile a incontrare il presidente dell'associazione Anzoni d'Italia il delegato del CONI, tutte le istituzioni sportive per fare un tavolo di lavoro su cui lavorare su questo però, ecco, ripeto, il po' di soltanto